L'allocco degli Urali è un cacciatore notturno particolarmente attivo al crepuscolo quando spia le sue prede da posatoi che dominano radure e margini di foreste. In questi ambienti caccia principalmente micromammiferi, soprattutto arvicole, tupi selvatici, ghiri e scoiattoli, ma anche piccoli uccelli come tordi e bottacci, merli, cesene e fringuelli. Nel video viene filmato un tordo bottaccio mentre molesta il suo predatore, emettendo in rapida successione brevi e acuti versi di allarme, accompagnati da attacchi in volo fino al contatto diretto, comportamento descritto originariamente in ornitologia con il termine di mobbing. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.